Stavo lavorando a una forma di tecnologia psionica quando i nostri amici, i Triceratron, sono venuti a cercarmi. Mi hanno attaccato perché mi sono rifiutato di costruire armi per loro. Erano furenti. Hanno distrutto tutto quanto. Il mio assistente automa ha trasferito il mio cervello dentro il suo corpo robotico. Mi ha salvato la vita. Un uomo fuso con una macchina. È così che sono rinato. Quando i Triceratron hanno scoperto che ero ancora vivo, mi hanno considerato un criminale. Un androide fuggitivo. Spugnoso! Se tu avessi un cervello, vorresti che uno lo picchiettasse? Non fa male, fai solletico! Ho una grande paura di perdere quello che resta della mia umanità. Non voglio essere considerato solo una macchina. Non abbiamo mai pensato a te come un robot, professore. Che cavolo sta succedendo, Fugitoid? Qualcuno attacca la nostra astronave! E ti serviva un pannello di controllo, per dirlo! Donnie, vedi qualcosa? Non riesco a localizzarlo, ma qualcosa là fuori c'è. Che cos'è? A me sembra uno squalo spaziale! Uno squalo spaziale? Che forte! Spacca decisamente di più dei vichinghi motociclisti! Ci servirà un'astronave più grande. Capitano Leo, dici quali sono gli ordini! Eh, Leo! Ma che fai? Sei impazzito? Che intenzioni hai? Ho quella vestita immonda davanti a me! Ho quella vestita immonda davanti a me! Ho quella vestita immonda davantica a me! Grazie a tutti